La Prima Guerra Mondiale, terzo tutorial. In questo video parleremo dei protagonisti della Grande Guerra, gli accordi di pace e le trincee. Cominciamo parlando dei protagonisti che sono stati Gavrilo Princip, Re Francesco Giuseppe, Re Guglielmo II, Re Vittorio Emanuele III, lo zar Nicola II, il presidente Wilson, il generale Diaz e Cesare Battisti. Gavrilo Princip è lo studente serbo che il 28 giugno 1914 a Sarajevo uccise in un attentato l'erede al trono osburgico Francesco Ferdinando e sua moglie. È stato l'episodio scatenante che determinò lo scoppio della Prima Guerra Mondiale. Re Francesco Giuseppe, imperatore d'Austria e re d'Ungheria, si trovò a fronteggiare le lotte politiche in seno all'impero asburgico, dovute alle richieste delle singole nazionalità. Fu lui a dichiarare guerra alla Serbia quando Princip uccise il nipote Francesco Ferdinando. Re Guglielmo II, imperatore di Germania e re di Prussia, fu il capo incontrastato della politica tedesca e, vista la diffidenza verso gli altri stati europei, stipulò la triplice alleanza. Portò il paese dunque in guerra al fianco degli imperi centrali. Re Vittorio Emanuele III, re d'Italia, era salito improvvisamente al trono nel 1900 in seguito all'assassinio del padre. In politica estera, pur confermando la triplice alleanza, favorì il riavvicinamento diplomatico con Inghilterra e Francia, cioè le potenze dell'intesa. Infatti è al loro fianco che entrò in guerra il 24 maggio del 1915 dopo un periodo di attesa. Zarnicola II, sovrano di Russia, faticò a reggere uno stato che attraversava un periodo molto critico. Alle difficoltà interne cercò di far fronte trascinando il paese in guerra, assumendo lui stesso il comando dell'esercito. Quando la situazione interna degenerò, dovette uscire dalla guerra, ma la rivoluzione d'ottobre lo travolse e venne giustiziato. Woodrow Wilson, presidente degli Stati Uniti, che all'epoca erano una potenza in forte espansione. Allo scopo della guerra si mantiene neutrale, salvo intervenire in un secondo momento contro i tedeschi, quando questi affondarono il transatlantico Lusitania, che conteneva dei passeggeri americani ed inglesi. Fu il punto di riferimento negli accordi di pace di Versailles al termine del conflitto. Il generale Armando Diaz, capo militare italiano, si era già distinto nel 1912 nella guerra libica. Durante la prima guerra mondiale operò sul Carso, subentrò a Cadorna nel comando supremo dell'esercito dopo la disfatta di Caporetto. Seppe rinsaldare l'esercito e guidarlo alla decisiva vittoria di Vittorio Veneto. Scusatemi il gioco di parole. Cesare Battisti, il redentista italiano, dedicò la vita alla causa della sua regione, il Trentino, per ottenerne l'autonomia dall'impero austriaco e l'annessione all'Italia. Allo scoppio della prima guerra mondiale sostenne le ragioni dell'intervento italiano contro l'Austria e si arruolò negli Alpini. Cadde prigioniero e fu giustiziato. Gli accordi di pace a partire dal gennaio 1919 le potenze vincitrici si riuniscono a Versailles vicino a Parigi per stabilire le condizioni della pace. Ecco quanto viene stabilito. L'impero austro-ungarico viene diviso in repubbliche indipendenti, l'Austria raggiunge i confini di oggi. Questa è la situazione dell'impero austro-ungarico nel 1914, in vera abbiamo l'impero austriaco in giallo il regno di Ungheria. Vediamo ora la situazione del 1918, l'Austria e l'Ungheria sono ridimensionate, hanno più o meno quelli che sono i confini moderni, attuali. Nascono Ungheria, Cicoslovacchia e Jugoslavia dalla scissione dell'antico impero. Qua c'è la Cicoslovacchia, questo territorio se lo prende la Polonia. Qui c'è la Romania che amplia i propri possedimenti e qui la Jugoslavia. Anche l'Italia ne approfitta e sottrae dei territori. La Polonia, in precedenza divisa tra Austria, Germania e Russia, è di nuovo indipendente. Eccola qui. Andiamo avanti. L'Italia è scontenta perché ottiene solo Trentino Alto Adige, Friuli e Istria. Qui c'è il Trentino Alto Adige, qui Friuli e Istria. La Germania viene messa in ginocchio. Vedete nella cartina, in verde chiaro, i territori della Germania che vengono confermati anche al termine del conflitto. Perdi invece quelli neri, cioè questi qua. E questo territorio qua in verde pisello deve demilitalizzarlo, cioè sostanzialmente deve impegnarsi a non costruire più fortificazioni o radunare truppe in quel territorio lì. Turchia e Bulgaria raggiungono i confini attuali. Questo è l'impero ottomano, vedete in quel colore marroncino i confini alla fine della guerra per cui perde questi terreni qua che vanno alla Grecia, questi terreni qua alla Francia, sono sotto l'amministrazione della Francia, questi della Gran Bretagna. Questi terreni vengono lasciati a parte per un futuro stato kurdo. Questi terreni qua passano l'Armenia, perde un sacco di terreni sostanzialmente. La Bulgaria invece ottiene questi territori che vi sottolineo ora, invece questi li ottiene per tutti quelli che vedete in arancione vivido. Nascono gli stati di Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania, in precedenza appartenenti alla Russia. Ecco, vedete la Russia un colore rosa sulla destra verso est, tutti i territori che vedete tratteggiati sono quelli che perde. Qui c'è la Finlandia, l'Estonia, Lettonia, Lituania. Di fatto scompaiono quattro grandi imperi, quello austro-ungarico, quello russo, quello tedesco e quello ottomano. L'Austria, Germania e l'Italia sono molto scontente dell'esito dei trattati di pace e in Europa si creano nuove tensioni. Parliamo ora delle trincee. La guerra di trincee è la forma di combattimento caratteristica della prima guerra mondiale. Le trincee sono fossati, scavati lungo la linea del fronte, protette da muretti di pietra e sacchi di terra, dietro cui si può sparare verso i nemici. Questa è la rappresentazione attraverso un disegno di una trincea. Vedete che sono tutte protette dal filo spinato. Qui i soldati vivono giorno e notte in condizioni igieniche spaventose in attesa di un attacco nemico. Tra le due trincee nemiche, distanti tra loro dai 100 ai 400 metri e separati da reticolati di filo spinato, passa la linea del fronte. Questa invece è una fotografia di una trincea. Questa è l'evoluzione del fronte italiano dal 1915 al 1917. In rosso i confini quando è al momento dell'ingresso in guerra dell'Italia, invece la linea tratteggiata furono quelli poi che corrisposero alla data di conclusione del conflitto. Ovviamente nel confine corrisponde anche sostanzialmente a quella che è la linea delle trincee.